Sorridi, ecco l'effetto di coppia, mascherine e whisky. Amore, per quest'anno ho una sorpresa. Che ne diresti di una bella vacanza intelligente? Cos'è? Tu non vieni? Una casalinga confida all'amica incontrata al mercato le proprie frustrazioni. Sai, con mio marito non è che poi vada così male, ma lui è sempre svogliato e soprattutto ormai non mi guarda quasi più. Figurati che quando torna a casa la sera tutto quello che sa dirmi è Oh, che semagna stasera. Sai, Piera, gli uomini sono tutti un po' uguali, così infantili e prevedibili. Anch'io avevo il tuo problema, ma sono riuscita a risolverlo in un modo semplicissimo. Davvero? Fausta? Ma come? Dimmi tutto, che ci voglio provare anch'io. Guarda, comprati un completino nero un po' aggressivo e soprattutto una mascherina nera. Gli apri la porta vestita così e l'effetto è assicurato. Non mi dire, basi poco. Beh, tanto per quello che mi costa. Dopo una settimana si rivedono al mercato. Allora, Piera, com'è andata? Vuoi proprio saperlo? Beh, è tornato. Io ho aperto la porta e lui mi fa, azzorro, che se magna stasera. Un tizio osserva per un po' con un sorriso di beatitudine la propria moglie. È straordinario, le dice, come un bicchierino di whisky possa darti un'aria così dolce e simpatica. Ma io non ho bevuto, batte seccamente la moglie. Tu no, ma io sì. Gli apri la porta e uscire. Gli apri la porta e uscire. Grazie a tutti.